ciao a tutti allora questo è proprio una cosa che devo dire perché ho sentito dire troppe stronzate e quindi questo video non farà molto piacere a molti mi guadagnerò probabilmente anche molte critiche ma non importa perché il mio eter ha detto veramente troppe stronzate proprio insopportabile il livello di puttanate che ha detto ma lo ha ammesso anche lui è oggi dico un po di stronzate ne ha detto in quantitativo incredibile in un quantitativo proprio tonnellate di minchiate ha detto benissimo la puttanata numero uno ha detto che le donne tedesche camminano locca sciolte e invece noi andiamo in giro insomma come una sorta di babuino che ha avuto il colpo della strega cioè tutte piegate così allora io volevo dire che ogni tanto nel mio tempo libero faccio nuoto quindi grazie a dio problemi di schiena non ne ho non vedo perché devo vergognarmi di chi sono e quindi vado in giro camminando assolutamente in modo normale non credo che ci sia una differenza evidente tra come cammina il mio ragazzo mia suocera o come cammino io la seconda puttanata incredibile che ha detto è che ha detto che le tedesche sono tutte magre e alte no sono tendenzialmente più alte sì ma ha detto anche che le italiane sono grasse allora io vorrevo dire una cosa adesso vorrei far vedere quanto sono grassa allora calcolate questa cosa che sono leggermente più grassa di quanto sarei perché purtroppo o la tiroida puttane quindi avendo la tiroida puttane per quanto sport uno possa fare un po di grasso lo mette su ma veramente io ho preso da mio padre che quando era giovane era assolutamente quasi trasparente quindi non diciamo minchiate detto questo al massimo o un paio di chili in più se avessi la tiroide funzionante vi posso assicurare che sarei semi trasparente perché proprio quando stavo bene ed ero leggermente più giovane avevo la pancia che addirittura rientrava non sporgente rientrava quindi non diciamo minchiate non mi sono mai considerata una pezza di figlia perché non lo sono detto questo grassa no tutti i difetti ma non quello quindi non diciamo stronzate incredibili le ragazze che sono nella mia classe sono magre come me assolutamente e devo dire che di donne grasse non è ancora visto cioè nel paese dove dove stavo prima c'era una figlia di un immigrata ed era magra come un chiodo la signora era leggermente più in carne ma ho visto tedeschi sui 70 60 anni essere abbastanza in carne pure loro quindi questo mi sembra una grandissima minchiata non vedo il motivo per cui dovrei andare in giro ciondolando e con dei problemi alla schiena quando non ne ho grazie al cielo spero prima dei 70 anni non avere mai problemi alla schiena inoltre volevo dire una cosa quel grandissimo personaggio no che è lo stefano signore che mi aveva detto che dovevo iniziare la scuola dall'inizio allora augurare una cosa del genere o dire una cosa del genere è veramente da persone inqualificabili oltre il fatto che lui mi ha dato più volte della donna somma della accompagnatrice notturna della persona di pessimi costumi eccetera soltanto perché svolgo la mia attività da casa allora ci sono un sacco di traduttori che lavorano a casa e tu non ti puoi permettere in nessun modo di dargli i nomi che hai dato a me alcune persone hanno detto di denunciarti io non lo faccio perché mi conviene più prendermi prenderti in giro cioè proprio per me vali meno di una nullità totale comunque detto questo è veramente da cristiani no da cristiani credenti augurare a una persona che ha già studiato di studiare ancora degli anni di rifarsi tutta la scuola no proprio il nostro signore no dice di augurare no il male a tutti visto che tu credi il nostro signore io almeno sono atea per me sono tutte minchiate quello che sono scritte nella bibbia anche perché secondo me tu non leggi neanche la bibbia veramente perché non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te tutti permetti di crocifiggere gli altri ma non l'ho detto solo io l'ha detto anche la storica sei una benemerita schifezza scusami se te lo dico cioè mi vieni a rompere le balle per qualunque motivo perché io sono piccola ha deciso che sono piccola io ho detto che sono bassa ma nel rispetto delle donne tedesche sono bassa rispetto a loro sono bassa io sono alto un metro e settanta testa di minchia cioè sono una di un'altezza normale per una ragazza non sono un gigante non sono una nana però c'è poi tra l'altro lui non mi ha mai visto di persona quindi vabbè lascia il tempo che che trova quello che dice lui ma come tutto come quando mi ha dato della donna di facili costumi come mi ha dato della donna inqualificabile perché secondo lui bisogna arrivare al matrimonio vergini ma scusami ma certo che dicevano che dove che dovevano arrivare al matrimonio vergini cazzo si sposavano a 12 anni è una volta ma cioè ma svegliati svegliati madonna vivi nel 1300 e la cosa è peggiore che sei venuto pure a litigare sotto un mio video io ci ho messo una settimana a impararmi a fare col computer tutti gli effetti no tu testa di minchia sei venuto qui e me ne hai scritto di tutti i colori andando a litigare con uno che che non è mio amico hai deciso tu che è mio amico io non so chi sia quel dmt non ho niente contro di lui però ti sei attaccato contro di lui soltanto perché ha criticato la lingua tedesca che tra l'altro è parlata da me madrelingua quindi non lo parlo bene io non ho mai detto di parlarlo bene se poi ti sei permesso di venirmi a dire che io pronuncio male la parola e ma grazie al cazzo io ho studiato dieci anni cieco ho preso l'accento cieco certo che ho un po di influenza quando parlo tedesco ma possibile che non capisce assolutamente niente ma proprio niente e adesso non mi venire a dire a tu mi hai dato della testa di minchia sacrilegio tragedia ma lo sei lo sei è il proprio stufato col tuo maschilismo impiccati il mondo sarà migliore senza di te adesso non mi devo neanche arrabbiare cioè questo non proprio uno sfogo ma chi mi conosce sa che non sono veramente arrabbiata anche perché quando io sono veramente arrabbiata non mi metto neanche a urlare sai sai cosa faccio io quando sono veramente arrabbiata mi metto a scrivere oppure vado a denunciarti perché ne hai fatte abbastanza e ne hai dette abbastanza cioè le persone come te dovrebbero prenderle ammazzarle da piccole ciao